Tu hai una sorta di rivalità con Pino Insegno. Ha un derby del cuore, non so come. Ho scartato quello che vende le biciclette elettriche. Mastrota. Mastrota, sì. E mi sono avviato verso la porta. Inciampo, la palla si alza e fa un pallonetto, non voluto, ed entra in porta. Io risulto, tutti i miei abbracci, guardo il tabellone di San Siro, Pino Insegno. Poi io l'ho rivisto nella cazzo di registrazione, la palla è già entrata, tu vai lì e la butti dentro. Ti ha indiciato il gol come il peggiore dei numeri nove. Un gol a San Siro vale cinque grandi spettacoli che hai fatto. Non ti sei mai confrontato poi con Pino Insegno per questa cosa? Ma è meglio che non ci incontriamo.